E' stato progettato dalla Nato contro i crimini delle più alte cariche dello Stato Un essere senziente, altamente provocante, raffinato e totalmente inaspettato Si erge stato vario per guidare la nazione sulla strada di un futuro più adeguato Combatte di inflazione, mutuo attasso agevolato e ottimo anche per lo sport contro Stato Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli alieni, dai maia, d'asci, l'ipoticità C'è il fonso signori C'è il fonso signori Alla prossima Alla prossima Alla prossima